Il stadio di San Siro, stadio Meazza di Milano, è appena terminata questa rocambolesca partita tra Internazionale e Parma 3 a 3, il punteggio finale. Emanuele Dotto in sedi di commento ha sottolineato come si è stata una partita ricca di emozioni, ma anche con qualche errore. Va da sé che con un finale del genere non poteva essere diversamente. Guarda, se devo essere sincero, il pareggio sta stretto al Parma. Secondo me ha giocato meglio, ha dimostrato di avere maggiore compattezza di squadra, è stato compatto, ha perso una grande occasione. Perché secondo me, dal punto di vista tecnico, poco di impostazione di gioco, il Parma è stato superiore all'Inter. Certo, è stato favorito dal clamoroso errore di Andanovic che aveva consentito al Parma di ritornare in vattaggio, ma complessivamente come sviluppo di gioco, come manovra, a me il Parma è piaciuto più dell'Inter. Ho sentito che dicevi di non essere un grande stimatore di Cassano che però ti dice che... Non mi piace, è un caratteraccio, si è comportato malissimo con il compianto Presidente Carlone, è un piantagrane. Se devo essere sincero, uno per la sua strada. Cassano è un proprio grande giocatore, ma non lo vorrei avere in una squadra neanche per giocare il torneo della parola. Anche se all'estamento il Parma sta dando una grossa mano. Non discuto, però prima bisogna essere campioni fuori e poi dentro la vita. Guarda che dicono che potrebbe tornare a Genova. Mi auguro di no, spero di no, ma non credo perché quello che combinò con Garrone non ci sono parole per destino. Senti Emanuele, per il resto del Parma di stasera cosa ti può essere piaciuto? Guarda, mi è piaciuta la tranquillità di Mirante, che non è poi troppo colpevole per i gol presi, la compastezza del centrocampo e via via nì. Via via nì aveva fatto un danno disastroso a Genova, lo ricordo. Questo sembra veramente un altro sputnik, formidabile, è veramente un grande giocatore. E ti dico, a volte le annate sono disastrose da un lato e eccezionali dall'altro. Certo, ieri hai intervistato per a caso il nostro amico Carmignani. Sì, Gedeone, semplicissimo, grandissimo. Ricorda con affetto gli anni del Parma. Credo sia rimasto un po' male per quello che gli hanno fatto. Insomma, tu puoi anche essere buon testimone perché forse le bandiere non esistono più. Questa è una società, cioè è una società non come Parma, ma una società civile che preferisce alle bandiere le bandiere. Grazie Manuel, a presto. Ciao. Ciao.